Buongiorno a tutti, il tema di Yaskawa per quest'anno e per la nostra partecipazione ad SPS è l'Experience Connectivity che tratta dell'unione dei prodotti Yaskawa robotica e Drive & Motion tutti connessi in un unico sistema non solo il nuovo sistema EQ Mechatronic che rappresenta perfettamente l'unione tra questi due business unit ma anche tutti i sistemi che hanno la capacità di connettersi con degli smartphone o con dei sistemi mobile inoltre quest'anno presentiamo anche qui in fiera l'unione che c'è stata tra la business unit Drive & Motion e la robotica in termini di gruppo che da anni era attesa e siamo riusciti a conquistarla inoltre abbiamo allo stand il nostro robot collaborativo HC10 impegnato in un'attività industriale nell'ambito del tessile e unitamente a tutti i sistemi connessi nel nuovo mondo tecnologico EQ Mechatronic capace di soddisfare qualsiasi richiesta dell'industria 4.0 in motion got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully capace di soddisfino coi COI 치